Bella regà, qua Bash e bentornati sul canale! Oggi siamo qui con un video speciale, ovvero la presentazione di un formato alternativo di Yu-Gi-Oh! Ma prima di tutto iscrivetevi al canale e lasciate un like per il supporto! Let's go! Allora, per chi se lo ricorda, molto tempo fa su Twitch feci un torneo un po' particolare su Master Duel, facendo utilizzare ai giocatori che partecipavano solamente delle carte scelte da me creando una lista apposta. Il caso vuole che adesso nelle partite private su Master Duel si possono giocare anche le carte proibite, ovvero giocare senza la banlist. Quindi che cosa ha fatto il Bash? Ha creato un formato tutto suo, ovvero Yu-Gi-Oh! Bash Duel! Let's go! Questo è un formato non ufficiale, ovviamente, perché l'ho creato io, ma che comunque può essere giocato come tutti gli altri formati non ufficiali. Lo abbiamo testato e provato con la Spice Squad da circa un mese e ci siamo divertiti abbastanza. E dalla prossima settimana tornerò in live su Twitch e si giocherà proprio questo formato, ovviamente nelle mie private. Di base ho fatto una lista di carte old school, ma anche di carte recenti, per ricreare l'atmosfera del vecchio Yu-Gi-Oh! delle medie, evitando i mille negate e i turni di mezz'ora del gioco di oggi. Attualmente per l'extra deck ci sono solamente mostri fusione, ma se vedo che questo formato vi piace aggiungerò nuove carte col passare del tempo, proprio come se fosse una cosa ufficiale. E magari creerò anche una Banned, perché attualmente non ci sono né carte proibite né carte limitate a due copie. Ho semplicemente fatto una lista di carte giocabili e una lista di carte limitate a uno, per rendere il gioco il più equilibrato possibile. In descrizione trovate il pool di carte utilizzabili per creare il vostro deck, mentre per la lista delle carte limitate, che sono le carte più forti del formato, la trovate nelle mie storie in evidenza su Instagram. Mi potete trovare come Bastardo7, andatemi a seguire perché sarà su Instagram che pubblicherò i futuri aggiornamenti del formato. Detto questo ci vediamo lunedì prossimo in live su Twitch alle 20.30, anche lì mi trovate come Bastardo7. Andremo a fare un po' di partite tra di noi e vediamo cosa esce fuori. Adesso non vi resta che andare a creare il vostro deck e poi lunedì lo proveremo in live. E con questo vi saluto, lasciate un like per supportare il canale, iscrivetevi se ancora non l'avete fatto e noi si beccamo al prossimo video. Bella! Let's go!